Buona giornata, oggi celebriamo la memoria della Beata Vergine Maria di Fattima, affidiamo a lei la nostra preghiera per che ci renda docili alla parola del suo figlio. Il testo del Vangelo di oggi è dal capitolo 15 del testo di Giovanni. Quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli, io sono la vite vera, il padre mio è l'agricoltore, ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto, voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato, rimanete in me, io in voi, come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vita, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui porta molto frutto perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e secca, poi lo raccolgono, lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il padre mio che portiate molto frutto e diventiate mie discepoli. Gesù riprende durante il discorso dell'ultima cena un'immagine che è già conosciuta nella Bibbia, quella della vigna, l'applica a se stesso, io sono la vigna, io sono la vite, riprendendo altre affermazioni in cui Gesù ha riassunto le grandi simbologie dell'Antico Testamento, io sono il pastore, io sono la luce, io sono l'acqua, io sono la vita, cioè c'è una concentrazione nella persona di Gesù di tutte le immagini che erano state utilizzate per descrivere il dialogo tra il popolo e Dio. Questa immagine serve a Gesù per sottolineare due aspetti, il primo quello della potatura e cioè nella vigna c'è appunto l'albero, la pianta, c'è l'agricoltore che è il padre, c'è il tralcio da cui poi fiorisce il fiore e poi il frutto, l'uva. Ecco l'immagine è che Gesù vigna, ha i tralci che siamo noi e sappiamo che l'agricoltore perché la vigna porti frutto la pota, la purifica, c'è questa azione di taglio perché ci sia frutto. E il padre, cioè l'agricoltore, è glorificato per il fatto che i tralci siano ricchi di frutti, ricchi di uva. Com'è che avviene questa potatura così necessaria? Gesù la spiega in questa maniera. Voi venite potati, venite purificati mediante la parola che io vi ho detto. Dunque è la parola che Gesù pronuncia, che il discepolo tralcio ascolta, che se viene accolta è un mezzo attraverso il quale il discepolo tralcio viene potato. Questa affermazione ricorda che il risultato della parola di Dio, che è il dono della unione con Gesù, è la pace, ma è una pace che esige un cammino di conversione, di purificazione. Non è soltanto un cammino che provoca tranquillità, che provoca un sentimento di sicurezza. L'ascolto della parola del Signore è anche un cammino di conversione, di purificazione. Proviamo ad ascoltare due testi della scrittura. In una predica anche molto forte perché Pietro nella predica dice, ecco voi avete ucciso il santo, avete ucciso il giusto, l'effetto di queste parole viene descritto in questa maniera. All'udire questo si sentirono trafiggere il cuore. Il cuore è trafitto, il cuore è colpito dalla parola perché mette in evidenza il peccato, la chiusura che il popolo ha avuto. Una stessa, una immagine simile, si ritrova anche nella lettera agli ebrei. A proposito della parola di Dio si dice, la parola di Dio è viva, efficace, più tagliente di ogni spada a doppio taglio. Essa penetra fino al punto di divisione dell'anima e dello spirito, delle giunture e delle midolla. Escrute i sentimenti e i pensieri del cuore. Non v'è creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutto è nudo e scoperto agli occhi suoi e a lui noi dobbiamo rendere conto. Dunque, quella pace che Gesù promette a chi ascolta la sua parola, a chi rimane unito a lui, è una pace che non è come quella che dà il mondo, perché è una pace che nasce dall'ascolto che illumina la nostra vita, la illumina nell'intimo, svela ogni nostra tepidezza, ogni nostra resistenza di fronte a lui. Quindi la parola del Signore che penetra dentro di noi, se ci fa piangere, se ci mostra anche il nostro peccato, però ci dona la gioia e la forza del cambiamento. In questo senso la parola del Signore è purificazione, cioè cammino verso la santità e va accolta anche dentro a questo aspetto di esigenza di purificazione. Potremmo riconoscere anche un ulteriore aspetto forte della parola del Signore. Se pensiamo per esempio alla chiamata di Paolo, quando Anania, il cristiano che batteterà Paolo, sente la voce del Signore che gli dice va da Paolo, Anania resiste un po' perché appunto Paolo era un persecutore, poi alla fine il Signore dice ad Anania va perché egli è per me uno strumento eletto per portare il mio nome dinante i popoli, ai re e ai figli di Israele e io gli mostrerò quanto dovrà soffrire per il mio nome. La parola del Signore svela anche che siamo chiamati perché il regno di Dio si espanda nel mondo ad accogliere ciò che le circostanze della vita possono provocare come sofferenza per noi affinché il regno di Dio venga. La parola del Signore ci dispone in fondo a lottare e a soffrire perché ci sia la conversione nostra ma anche quella degli altri. Paolo è chiamato a soffrire perché gli altri, i gentili, i pagani giungano alla fede e Gesù e il Signore risorto glielo mostra, gli mostra questa strada. Interessante che in maniera molto più semplice una cosa del genere è proprio capitata ai Santi che ricordiamo oggi, ricordiamo le apparizioni a Fatima e quando Maria è apparsa ai pastori di Fatima la prima cosa che ha detto è questa volete offrirvi a Dio per sopportare tutte le sofferenti che gli vorrà inviarvi in atto di riparazione dei peccati con cui egli è offeso e di supplica per la conversione dei peccatori e con entusiasmo i bambini hanno risposto sì lo vogliamo e si racconta che il povero Francesco quando stava soffrendo diceva a causa della malattia sento tanti dolori al petto confidava ma non dico niente soffro per la conversione dei peccatori e cioè la parola di Dio svela anche che dobbiamo affrontare le circostanze della nostra vita anche quelle più dure proprio come una partecipazione all'avvento del regno alla conversione del peccato del peccatore ecco questo può essere un primo aspetto che deriva dalla visione di Gesù vigna ce n'è un secondo che accenno solo perché è ritornato altre volte cioè quello del rimanere il fralcio deve rimanere attaccato alla vite se non rimane attaccato alla vite viene buttato per terra secca e viene buttato poi nel fuoco c'è la frase fortissima di Gesù senza di me voi non potete far nulla dobbiamo rimanere attaccati a lui qui rimanda a tante altre cose che abbiamo sentito e cioè il fatto di essere uniti al Signore di rimanere nella sua parola non basta ascoltare un momento bisogna essere capaci di stare di stabilire un'unione profonda con il Signore chiediamo a Maria oggi che lei che ha accolto la parola ed è rimasta nella parola anche la parola che le ha trapassato il cuore come una spada lei accogliendo la parola ha portato il frutto molto frutto il frutto più grande figlio di Dio e Dio in lei è stata glorificata che ci aiuti ad avere questa fiducia di rimanere nella parola di lasciarci purificare dalla parola per portare quel gran frutto per cui noi siamo stati creati buona giornata